E' sicuramente giovane ma non è sicuramente nuovo agli incarichi politici, ricordiamo tante volte sindaco al comune di Casalbuono, anche in precedenza presidente del GAL, Attilio Romano, che cosa si trova per questo incarico da assessore nella comunità montana pallodiana? No, ma naturalmente c'è soddisfazione, c'è gioia, c'è consapevolezza del ruolo, della responsabilità che assumiamo insieme col presidente Sposito, con gli altri colleghi assessori, sappiamo che c'è un grande lavoro da fare, noi daremo il massimo affinché le cose possano andare nel verso giusto, sappiamo che abbiamo un territorio bellissimo però che ha bisogno di un grande lavoro. Io in prima persona mi impegnerò su questo, a fare un grande lavoro per la comunità montana, perché il nostro territorio ha certamente delle peculiarità, ha delle criticità e ci proponiamo pure, apprezzando e stimando il lavoro che è stato fatto precedentemente, a fare di meglio e di più rispetto al passato. Io sono convinto che stasera abbiamo determinato le condizioni.